L'alopecia androgenetica o calvizie che dir si voglia è un fenomeno che nella popolazione caucasica è estremamente frequente, meno frequente nelle popolazioni africane o nelle popolazioni di colore. Infatti la maggior parte degli uomini soffre di questo problema, tanto che a 30 anni il 30% già comincia a soffrirne, a 70 ben l'80%, un po' meno frequente nella donna perché questa è più frequente intorno alla menopausa quando colpisce circa il 50% della popolazione femminile. È un fenomeno geneticamente determinato, i geni che lo determinano non sono ben conosciuti, però sicuramente c'è in gioco l'ereditarietà familiare, per cui i figli di due genitori affetti da calvizie hanno quasi la sicurezza di avere una calvizie piuttosto grave. Dal punto di vista diagnostico la diagnosi si fa a vista, volendo si possono utilizzare anche sistemi tipo la dermatoscopia digitale o ottica, il tricogramma o altro, ma questi tutto sommato servono a molto poco. Non serve neanche fare il dosaggio ormonali perché oggi noi sappiamo che il fenomeno non è legato, come si credeva fino a poco fa, a una iperproduzione di testosterone, ma è invece legato a una maggiore sensibilità dei recettori del testosterone a livello di bulbo pilifero a livello delle tempie e del vertice. Quindi questi dosaggi sono assolutamente inutili. Terapeuticamente in questo momento si può andare sicuramente sul minoxidil, che poi è un vasodilatatore, un ipotensivo che si è visto che applicato localmente provoca la ricrescita dei capelli in una larga percentuale di casi. Qualche volta stimola la ricrescita anche di altre zone pilifere e gli effetti non sono sempre del tutto gradevoli. L'altra alternativa è la finasteride, un farmaco già conosciuto per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna, ma dosaggi ben più alti. Questo anche dà degli ottimi risultati. Ovviamente stiamo parlando di calvizie medio grave, ma l'effetto collaterale meno di 1 su 200 casi può agire sulla sfera sessuale riducendo la libido, cioè le pulsioni sessuali, riducendo la potenza dell'erezione e il volume dell'inaculato. Si tratta quasi sempre di effetti transitori alla sospensione, generalmente si ha una rapida ripresa dell'attività. A prescindere da questi, altri antiandrogeni, ma con risultati meno probabili, sicuramente in questo caso, soprattutto nei casi gravi, si può ricorrere all'autotrapianto, si prelevano i bulbi dalla sede occipitale e si innestano singolarmente nelle zone da trattare. Nuove speranze sono dalle cellule staminali, per ora si sono dimostrate utili per la ricrescita del pelo nel topo. La prossima tappa sarà l'uomo.